altra novità per il 2021 è il filo special orata in bobine da 300 metri e un filo trasparente super anti abrasione ovviamente orata perché comunque sia pescando nel misto abbiamo bisogno di un filo che resista anche in caso il pesce si vada intanare verso gli scogli e noi dobbiamo forzare e quindi ci può essere la possibilità che il filo strusci fa gli scogli la speciale copertura che ha questo filo impedisce che il filo si tagli durante il contatto con le pietre o gli scogli